Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su Minecraft Ragazzi, non sono riuscita a trovare craverne, 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 caverne Prima di iniziare la puntata, quindi non possiamo esplorare, ma continueremo la nostra base segreta Ragazzi, vi ricordate quel buco? Quando entrate dentro il buco sotto, sotto ci mettete il cartello per non far uscire l'acqua E da qui inizia il nostro nascondito segreto Si fanno così, 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 così Vabbè, lasciamo stare dietro, si può fare quello che si vuole dietro Cosa, caso, cose Ok Si va così, si chiude il pavimento, si fanno i muri Ok 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 Così va benissimo ragazzi, quindi qua si chiude Ma prima si apre un attimo Cosa ho fatto? Ragazzi Mi sa che ho tolto il cartello Piccoli imprevisti che si risolvono facilmente Si prende il cartello, si mette, si toglie Oh, allora ho sbagliato, non ho tolto Ragazzi, non ci sto capendo niente Allora Ok Stavo dicendo ragazzi Qua mettiamo una torcia perché se no non vedo niente La mettiamo a posto Ecco qua Qua invece si mettono Togliamo il piccone E mettiamo Le scale a pioli Le scale a pioli Le scale a pioli Le scale a pioli sono di qua No, sono di qua Cosa sto facendo? Un attimo Calma Sangue freddo Eccolo Ecco qua Si va giù Si va giù Per Diciamo 5 quadretti Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 Così va benissimo ragazzi Quindi prendiamo questo E copriamo qui Perché vabbè Se no fa molto antiestetico Fa leggermente schifo E quindi noi per essere seri Lo facciamo bene Ok Ok ragazzi Così va benissimo Ok Qui mettiamo un'altra torcia Per vederci bene E ragazzi No Scaviamo ancora uno Ok Così va benissimo Qua iniziamo a scavare Così Si Per 3 quadretti Al terzo quadretto Apriamo 2 di qua E 2 di qua 1, 2 1, 2 Ok ragazzi Questa sarà la stanza Ok Allora Adesso Facciamo così Qui apriamo Intanto mettiamo le torce Poi le cambieremo Facciamo così In effetti In effetti ragazzi Mi piace Mi piace Tanta roba Si può fare Dai Si va benissimo Però apriamo Però apriamo un po' Più così Sopra Apriamo per così Perché mi piace Di più Sarebbe più bello Apriamo così Di 2 Perché Ok Così E per così Vabbè Dopo ci pensiamo Allora Ne apriamo di 2 Perché E prendo con uno Ci serve per metterci la lava Prendo il secondo Ci vuole per rivestirlo Eh si Cosa faccio Vabbè I rivestimenti Ragazzi Li farò Senza la videocamera Ok Ok la stanza La faremo di Quant'è qua 1 2 3 4 5 5 Per 10 Quindi allora Siamo a 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 E l'ultimo 10 Ok ragazzi Poi sapete che Di là È sempre 5 E poi Di nuovo 10 Ragazzi La faccio off camera Perché sarebbe Un lavoro Lungo e noioso Quindi ragazzi Ci vediamo dopo Ok ragazzi Ora vi spiego Perché ho messo Questi vetri Ragazzi Visto che è una Stanza segreta Deve fare un po' figo Quindi mettiamo La lava Quindi qui Facciamo così Scaviamo Al vetro E poi facciamo 1 E 2 E così via Per tutto Il Per tutta La stanza E quindi ragazzi Anche questo Come Vi ho detto Anche questo È un processo Molto Noioso Ragazzi Quindi È molto lungo E noioso Quindi ragazzi Io Sono bravo Non sono più Così tanto Crudele Da farvi vedere Tutto E non tagliare Quindi ragazzi Vi taglio anche Questo E ci vediamo Dopo 3 2 1 E ci vediamo Ok ragazzi Ho finito Di togliere Tutta la parte Sotto E ora Arrivo Alla parte Più bella A uno Dal Dal Soffitto Dalla Parete Dalla parete E di qua Si prende Il secchio Le lava E si mette Così Guardate Che figata E si fa Da Tutte Le parti Guardate Che figata È una figata Pazzesca Ragazzi È una figata Pazzesca Guardate Così Alla fine Tutto Pieno Sarà Tutto Pieno Intanto Togliete Le torce Tanto Tra poco Non serviranno Più Allora Anche Qua Guardate Ragazzi Come si sta Formando In un modo Incredibile Togliamo Anche Sta Torcia Che Non serve A niente Ragazzi 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 Ho fatto Un casino Ho fatto Un casino Ok Ragazzi Casino Rimediato Casino Rimediato Lo Chiudiamo Anche Qua Chiudo Un attimo Questo Pezzo Ora Lo Riapro State Un attimo Una figata Comunque Ragazzi Uh No Ho scoperto Una cosa Brutta Aiuto 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 E ora Vabbè Fa niente Ok Allora Mettiamoci il vetro No No Ho sbagliato Comunque Ragazzi Qua Possiamo Togliere i vetri Sbagliato Ragazzi Un minimo Movimento Sbagliato E siete Fritti Veramente Si mette Questo Qua Questo Qua Ah La torcia Ok Ancora Ho sbagliato Ok Ragazzi Questa È la Camera Di Lava La Camera Dei Segreti Ragazzi La Camera Dei Segreti Che È Piuttosto Figa Diciamo Si Dai Ci Sta Ci Sta Ci Sta Ok Ragazzi Così Va Benissimo Ora Prendiamo Una Cesta Prendiamo La Cesta E Ce La Mettiamo Qua Qua Dentro Ragazzi Ci Mettiamo Solo Le cose Che Più Ci Interessano Quindi Stavo Pensando Ai Diamanti Smeraldi Quindi Togliamo La Mia Faccia Ok Ragazzi Questa Era La Stanza Dei Segreti Ragazzi E Va Bene Questa Era La Stanza Di Segreti Va Bene Ragazzi Se il video Vi è piaciuto Lasciate un commento Vi piace Qua sotto Nella pagina Di facebook Io non sto Vedendo niente Su Atte Se qua È un po' Scomodo Però Comunque Ragazzi Se il video Vi è piaciuto Lasciate un commento Vi piace Qua sotto Commentate Iscrivetevi E noi ci vediamo Nel prossimo Video Ciao Ragazzi Scrivetevi